Ciao a tutti, sono Paola Egonu e doppia un'anima in solo. È il paradiso? No. Allora è l'inferno. La musica nella mia vita ha un ruolo importante perché l'ascolto sempre. L'ascolto appena mi alzo dal letto, mi ascolto prima di una partita, l'ascolto mentre vado in macchina, è sempre presente. Ti trovi nell'antemondo, dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla terra. Ho capito che la mia passione era la pallavolo quando organizzavo tutti gli altri miei impegni in base agli allenamenti che avevo ed è ancora tuttora così. Come ti chiami caro? Mi chiamo Gioves. È importante avere un mentore o qualcuno che ti guida e ti segue nelle decisioni importanti perché non ti senti solo. L'ho avuto, li ho ancora, sono i miei genitori e li ringrazio molto perché sono sempre al mio fianco anche se non fisicamente.